in questo numero di turismo magazine ponte di ogni santi in viaggio 11,8 milioni di italiani bilancio in chiaroscuro per le strutture ricettive gli affitti brevi volano per il settore il ponte di ogni santi conquista gli italiani saranno circa 11,8 milioni coloro che si metteranno in viaggio quasi il 20 per cento della popolazione complice la fortunata collocazione nel calendario di quest'anno che fa cadere la festività nella giornata di martedì il giro di affari previsto di 3,4 miliardi il dato emerge da un'indagine di federalberghi il 96 per cento dei vacanzieri resterà in italia scegliendo in primis località d'arte montagna e mare per chi andrà all'estero le mete più ambite saranno le grandi capitali europee preferite dal 68 per cento degli italiani la maggioranza degli intervistati ha scelto di andare in vacanza per il ponte di ogni santi inseguendo il relax mentre un consistente 31 per cento probabilmente anche come conseguenza degli aumenti del prezzo dei carburanti dell'energia e dei beni di prima necessità ha deciso di utilizzare questo ponte lungo per raggiungere i propri familiari la casa di parenti e amici sarà la scelta privilegiata per il 28,6 per cento dei vacanzieri a seguire albergo residence e villaggi la spesa media si attesterà sui 389 euro a persona sorprende la voglia di vivere il bel paese ma i fortissimi rincari legati all'energia pesano come macigni su cittadini e imprese sottolinea il presidente di federalberghi bernabò bocca bilancio in chiaroscuro per le imprese ricettive tra ripresa della domanda turistica e costi di gestione è quanto emerge dai dati dell'osservatorio sull'economia del turismo delle camere di commercio elaborati da isnart union camere le vendite sono superiori agli anni passati ma la crescita dei costi mette in difficoltà un'impresa su due quattro aziende su dieci prevedono perdite in bilancio per il 2022 a giugno le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 51 per cento delle camere disponibili a luglio e agosto oltre il 70 per cento in estate le strutture hanno incontrato però grandi difficoltà a reperire personale stagionale il turismo rappresentava un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro prima del covid nel periodo più acuto della pandemia i lavoratori del travel si sono spostati in altri settori dell'economia il calo dell'occupazione ha colpito soprattutto i giovani e le donne è stata inoltre riscontrata la necessità di sostenere la riconversione e l'aggiornamento delle competenze per risorse umane qualificate tra le nuove figure professionali più richieste social media manager data analyst ed esperti di digital management per prodotti e destinazioni turistiche la sfida è dunque soprattutto quella delle competenze come rileva l'osservatorio sull'economia del turismo per il 51,9 per cento delle persone internet rappresenta il principale strumento che influenza la scelta di soggiorno sopravanzando la conoscenza dei luoghi già visitati e il passaparola sulla rete si costruisce e si condivide il legame soggettivo ed emotivo con i luoghi si progettano e coprogettano le esperienze si confrontano offerte e soluzioni. L'immobiliare si conferma un settore strategico per la crescita del turismo in Italia in quest'ottica la FIAIP federazione italiana agenti immobiliari professionali si batte per far crescere la ricettività delle case vacanza e rilanciare la capacità competitiva come emerso nel corso di un convegno a Palermo. I dati di Banca Italia ci dicono che negli ultimi cinque anni le locazioni brevi sono triplicate sono passate da 500 mila un milione e 600 mila di cui il 70% sono ad uso turistico quindi vengono generalmente chiamate affitti turistici e questo ci dice che questo segmento è una grande risorsa per l'economia locale e nazionale e quindi va ad ampliare sostanzialmente l'offerta turistica nazionale. Consapevole che il comparto turistico nel suo complesso contribuisce sempre più alla crescita e allo sviluppo economico territoriale la FIAIP chiede alla politica interventi per il settore. Secondo noi quindi legislatore sia locale che nazionale deve salvaguardare questo tipo di segmento attraverso delle politiche attive e non delle politiche passive. Visto l'importante ruolo da intermediari è stata avanzata la richiesta che gli agenti immobiliari siano inseriti a pieno titolo nel comparto turistico. Noi riteniamo che gli agenti immobiliari sempre più, perlomeno i dati sono questi del nostro centro studi, intermediano le locazioni brevi a uso turistico quindi partecipano diciamo anche normativamente alla raccolta e al versamento dell'imposta di soggiorno quindi sono agenti contabili ma sono anche pubblici ufficiali sostituti di imposta perché partecipano anche alla raccolta e al versamento del ritenuto da conto. Quindi avendo questa importanza per il legislatore quale garanzia di legalità e trasparenza nei confronti del mercato e della collettività chiediamo di essere resi compatibili con l'attività di gestione dei servizi in ambito turistico.